Sfoltire la rosa naturalmente diventa una necessità, in questo momento sono 23 giocatori sotto contratto, incide, ne devono essere 24 più un giovane nato dal 1 gennaio 2002, tutti i ragazzi del settore giovanile, come diceva lo stesso Sebastiani, non faranno lista, si attende sempre in entrata l'annuncio di Zappella, un laterale destro, manca la cuna in organico in questo momento nel Pescara, non è stato ancora rinnovato il contratto a Balzano, che comunque è un classe 86, va per i 35 anni, anzi li ha appena compiuti, quindi Zappella, si attende solo l'annuncio ufficiale, è un classe 98, laterale ripetiamo di spinta, nel 3-4-3 di Auteri sarebbe perfetto, di proprietà dell'Empoli, lo scorso anno ha giocato in Serie C con il Cesena, sempre per quanto riguarda il reparto retrato, ma parliamo dei centrali di difesa, in attesa di novità su Ianes, questo difensore centrale argentino, che non risponde propriamente alle caratteristiche dei difensori, che vorrebbe Auteri, anche perché non ha nel DNA la costruzione della manovra, Ianes, Auteri chiede ai difensori centrali di costruire dal basso, Ianes è soprattutto un marcatore, però è stato monitorato, diciamo che può essere anche vicina, definita vicina alla fumata bianca, Ianes è un difensore centrale argentino, classe 97 di proprietà della Fiorentina, che nello stesso tempo ha chiesto al Pescara SEC, che è un giovane promettente, si è messo in evidenza nella primavera 2 di Pierluigi Iervese, classe 2004, Ianes nell'ultima stagione e mezzo ha giocato nell'Avellino in Serie C con ottimi risultati, c'è stato anche un sondaggio per Ingrosso, Ingrosso, classe 89, lo scorso anno in B, nella cosenza di proprietà del Pisa, Ingrosso ha anche trascorsi in Abruzzo, perché ha giocato nell'Aquila dal 2012 al 2014, anche se l'obiettivo di Matteassi, non è neanche troppo un mistero di portare a Pescara per Greffi, non è più giovanissimo, ma è un difensore centrale di indubbia affidabilità, è un classe 1988, dunque 33 anni, lo scorso anno è stato a Modena proprio con Luca Matteassi, che era il DS del club emiliano. Infine invece per l'attacco, perché l'altro ruolo che manca, punta centrale, visto che Borrelli sicuramente sarà girato in prestito, salvo poi cose diverse, vedremo anche dal ritiro che, ripetiamo, comincerà il 15, dal 15 al 28 luglio la squadra sarà a Palena, agli ordini del neotecnico Gaetano Oteri, dicevamo dell'attacco, Emanuele Santagnello, non ci sono riscontri al momento, classe 90, ha giocato nell'Avellino soltanto tre gol, chiuso da Maniero e da Fella, quest'anno l'Avellino che ha perso la semifinale play-off, valida per la produzione in B, allenatore Braglia contro il Padova di Mandorlini, Santagnello è corteggiatissimo dalla Turris, Santagnello è un attaccante invece che ha le caratteristiche giuste per il gioco di Oteri, perché svaria su tutto il fronte offensivo, attacca la profondità, attacca lo spazio in questo momento, però non ci sono riscontri, abbiamo infatti parlato con il suo agente Bruno Di Napoli che ci ha detto al telefono nessuna telefonata da parte dei dirigenti del Delfino.